Amici bentornati ancora una volta in quell'angolo delle guide magiche su pokémon diamante lucente per la splendente Io sono George e oggi vi mostrerò come riscattare l'uovo di Manaphy Qui sulle schede vi lascio il video che ho realizzato su come attivare il dono segreto Quindi mi raccomando andatelo a recuperare se effettivamente non sapete come attivare il dono segreto Ovviamente vi ricordo che per riscuotere l'uovo di Manaphy avete bisogno di una connessione ad internet E ovviamente l'ultimo aggiornamento di pokémon diamante lucente per la splendente Entrate in dono segreto e selezionate tramite internet Ci darà connessione in corso, collegamento stabilito E attenzione attenzione abbiamo l'uovo di Manaphy Quindi lo andiamo a riscattare Ecco qua Oh guarda che figata Pacchettone regalo e boom Eccolo qui Quanto è bello Manaphy Quanto è bello Dono uovo di Manaphy 21.11.2021 Ho ricevuto l'uovo di Manaphy Controlla i box Ma non finisce qui Perché abbiamo come dono segreto anche dei vestiti Cosa che non vi ho detto ad inizio di questo video Per cui riscattate Vi ricordo che avete tempo fino al 21 febbraio E affrettatevi Affrettatevi perché sono delle cose molto belline da ricevere in gioco Hai ricevuto il seguente articolo Look Platino Dopo aver riscattato l'uovo di Manaphy e i vestiti di Pokémon Platino Ci apprestiamo ad entrare dentro il centro Pokémon Ma soprattutto ci apprestiamo ad accendere il box Perché è qui dentro che troveremo il nostro uovo di Manaphy Guardate qui Un uovo misterioso molto insolito In data 21.11.2021 Provenienza luogo grazioso Osservazione uovo Ogni tanto si muove e si schiuderà presto Quindi portatelo a spasso E fatelo schiudere Bene amici Io spero di esservi stato utile anche stavolta Vi ricordo Un like, un commento e un'iscrizione al canale Per non perdervi i prossimi contenuti Dedicati alle guide di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente Inoltre non dimenticate di dare un'occhiata alla descrizione Per link utilissimi Io sono George e vi aspetto in un prossimo video